E torniamo a spezzare mascelle con Mortal Kombat X. Oggi ho voglia di un villain, quindi prenderemo un Reptile in versione di Torneo. Lesto, nocivo, tutto molto random. Come alzo i contro Ken, minchia Kenshi è un forte, porca troia. Città di su, bene, ma Kenshi è un forte, ho paura di Kenshi. Va, va, va. Vediamo come al solito l'intro. Non leggerai i miei pensieri. C'è poco da leggere. Era fio, questa era vera. Maledetto. Ti però prendi, da cazzo. No, volevo tirarti una marmita in faccia. Eh, ma lui ha i poteri psichici del cazzo, troia Eva. Ma va qua, lui lo ti spezza la mascella. Ok. Ma cazzo. Non lo so proprio usare, Reptile. Allora. Vediamo un attimo com'è qua la situation. Giù destra, giù destra e rodondo. Ok, vediamo una. Ho vinto e non so come, eh. Ti sciolgo la faccia. Ok. Li facciamo e speriamo che... Ce la mandi buona. Qualcuno. Dio ce la mandi buona. Ho i pensieri sconnessi oggi. Posso aiutarti? Condividerai il tuo sangue. Non con te, Temo. Ma che cazzo. Dici, mamma. Dici, mamma. Ma te lo pevo. Ah, la marmittata in faccia. No, cazzo. Volevo farti una presuccia. Poi, vaia. Figa. Molto figa. Ma dovresti usare di più la lingua, cazzo. La tasse. Allora. L'altra dovrebbe essere giù giù, sinistra e destra quadrato. Vediamo giù giù, sinistra e destra quadrato. Yes. Bene. E la testa ce la teniamo. Nel ricordo, stavo dicendo, però. No, possiamo anche lanciarla. Bene, questo era Reptile. Io vi saluto e al prossimo video.